nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo amen i sacri cuori di gesù e di maria siano con voi fratelli miei carissimi amati come figlio di san domenico in questi tempi di guerra perché se non l'avete capito siamo in guerra nella grande battaglia spirituale nella grande tribolazione fratelli miei di cuore e con tutto il mio cuore parlo della preghiera del rosario non dico cose nuove perché sapete tutti quanto questa devozione la più bella devozione della chiesa cattolica la devozione più potente che esista fra tutte la preghiera cristologica che entra nel cuore di maria nel cuore della mamma è importante per tutti non dimentichiamo una cosa io ho in mente le parole di san luigi maria crinio de monfort che nel trattato sulla vera devozione maria dice gli apostoli degli ultimi tempi o sono mariani o non lo sono per niente beh questo è vero carissimi è vero perché da fatima in poi è chiaro a tutti deve esserci chiaro che la generalissima degli eserciti del bene della luce è maria santissima la trinità santissima affidato a maria questo grande immenso compito di guidarci tutti verso la luce state attenti carissimi questo è un tempo di discernimento perché satana e i suoi angeli sono scaltri e furbi sono vestiti da angeli di luci di luce ma non lo sono sono lupi con la pelle di agnello e bisogna saperli riconoscere allora da figlio di san domenico da domenicano è il nostro ordine ha promosso nella chiesa questa preghiera posso soltanto dirvi non vi faccio tutta la storia la potete leggere in qualsiasi momento che l'abbiamo sempre predicata questa preghiera che ripeto è cristologica perché noi non meditiamo maria ma i misteri della vita di cristo con maria guidati da maria e quel genio di apostolo mariano che era il monfort dice chiaramente che essere guidati da maria a gesù è il metodo più facile e sicuro perché perché nessuno sulla terra l'ha amato e l'ha conosciuto più di maria santissima gesù è stato suo figlio e lei che è stata fedele a suo figlio fino alla fine fino alla morte di croce quando quella spada le penetra l'anima un dolore indicibile che nessuna creatura umana solo una mamma che perde suo figlio può capire può avvicinarsi a quel dolore anche se non è comparabile allora rosario ghirlanda di rose dobbiamo offrire alla madonna soprattutto in questi tempi la rosa è uno dei fiori più usati simboleggiati per indicare la vergine maria il suo profumo allora ecco sempre nell'ambito dei sacramentali qual è il sacramentale più emblematico per noi cattolici ma attenti più potente il rosario e sì perché più potente vi ho parlato qualche giorno fa di acqua ieri ribadivo l'olio esorcizzato la croce il sale ma il rosario resta il sacramentale più potente ecco carissimi beh sì sì strappa dall'inferno lo scapolare e siamo lì sullo stesso livello ma il rosario è la più emblematica la più potente io sono la vergine del rosario lo dice ai pastorelli di fatima di pregare questa preghiera tutti i giorni allora carissimi per darvi un'idea delle promesse delle indulgenze annesse a questa preghiera io vi ricordo solo i meriti che scaturiscono anzitutto l'enchiridium indulcensiarium dice che ogni giorno recitando un rosario meditato quindi facendo precedere le decine da una meditazione biblica evangelica si lucra alle solite condizioni l'indulgenza plenaria cioè animo staccato da qualsiasi peccato anche veniale carissimi noi ci sforziamo magari non sarà plenaria sarà in sarà parziale ma i meriti di cristo li vogliamo lucrare ogni giorno preghiamo ci confessiamo otto giorni prima otto giorni dopo massimo ci comunichiamo però il giorno in cui vogliamo lucrare l'indulgenza preghiamo per il papa e per le necessità della chiesa e recitiamo il simbolo di professione il credo allora la madonna ha detto sempre ai suoi figli che chi reciterà questa preghiera vincerà le forze del male non sarà attaccato non conoscerà dannazione in eterno avrà grazie speciali dice la madonna prometto la mia protezione e grandi grazie a chi reciterà il rosario il rosario un'anima potente contro l'inferno contro le legioni diaboliche distruggerà i vizi libererà dal peccato ci difenderà dalle eresie dall'arianesimo imperante dal neopaganesimo dall'uteranesimo imperante che stiamo vivendo farà fiorire le virtù e le buone opere e otterrà alle anime le più bondanti misericordie divine e sentite ancora le promesse di maria santissima sostituirà nei cuori l'amore di dio all'amore del mondo elevandoli al desiderio dei beni celesti ed eterni quante anime si santificheranno con questo mezzo io non smetto mai di dire ai miei fedeli pregate il rosario e di pregarlo insieme con loro colui che si affida a me con il rosario non perirà chi reciterà devotamente il mio rosario meditando i suoi misteri non sarà oppresso dalla disgrazia peccatore si convertirà giusto crescerà in grazia e diverrà degno della vita eterna i veri devoti del mio rosario non moriranno senza i sacramenti della chiesa ma guardate quali grazie coloro che recito il mio rosario troveranno durante la loro vita e alla loro morte la luce di dio la pienezza delle sue grazie e parteciperanno ai meriti dei beati libererò molto prontamente dal purgatorio le anime devote del mio rosario i figli veri del mio rosario godranno di una grande gloria in cielo quello che chiederete con il mio rosario lo otterrete coloro che diffonderanno il mio rosario saranno soccorsi da me in tutte le loro necessità io ho ottenuto da mio figlio che tutti i membri della confraternita del rosario abbiano per fratelli durante la vita e nell'ora della morte i santi del cielo ma avete capito quali grazie quali doni e al nostro ordine in particolare i papi hanno fatto grandi doni con magistero coloro che recitano fedelmente il mio rosario sono tutti i miei figli amatissimi fratelli e sorelle di gesù cristo la devozione al mio rosario è un grande segno di predestinazione miei cari e in soldoni con magistero dei papi ecco cosa porta il rosario i peccatori ottengono il perdono le anime setate sono saziate coloro che sono legali legati vedono infrante le loro catene sia per i vivi che per i defunti coloro che piangono trovano gioia coloro che sono tentati trovano pace i bisognosi ricevono aiuto i religiosi sono riformati gli ignoranti sono istruiti i vivi vincono il declino spirituale i morti hanno le loro pene alleviate per via dei suffragi ecco e mi ricollego e ricito il monfort quando dice nel meraviglioso segreto del rosario leggetevi quest'opera è così bella il rosario porta una serie di benefici ci eleva insensibilmente alla perfetta conoscenza di gesù cristo purifica le nostre anime dal peccato ci rende vittoriosi su tutti i nostri nemici ci facilita la pratica delle virtù ci infiamma d'amore per gesù ci arricchisce di grazie e di meriti ci fornisce i mezzi per pagare a dio e agli uomini tutti i nostri debiti e infine ci ottiene ogni sorta di grazie allora fratelli carissimi non smettete di recitare questa preghiera non smettete e soprattutto se non avete ancora cominciato cominciate presto amatela è una preghiera facile semplice da recitare ma carissimi siamo in guerra la grande battaglia è cominciata facciamo forza difendiamo a denti stretti e con coraggio la nostra fede perché perché dobbiamo rimanere nell'ovile della chiesa e dobbiamo ricondurre qualora ve ne fossero amici cari parenti fratelli usciti dobbiamo ricondurli all'ovile stare in obbedienza alla verità in questa madre che ci nutre che ci genera alla fede che ci dona la salvezza eterna stare tribolare penare se necessario come già molti di noi stanno facendo ma in ossequio alla verità preghiamo e preghiamo soprattutto per la santa chiesa preghiamo nei suoi pastori preghiamo per le anime di tutti coloro che si fossero già venduti preghiamo per le anime di tutti coloro che hanno già ceduto al mondialismo che hanno già ceduto alla distruzione del cristianesimo ci sono ecclesiastici e porcorati che hanno già venduto l'animo al diavolo ci sono molti sacerdoti che già si sono venduti allo spirito di questo mondo dobbiamo pregare tanto per loro per noi maria santissima generalissima di tutti gli eserciti della luce è nostra madre e ci verrà in soccorso se la invocheremo con fede i sacri cuori di gesù di maria vi custodiscano vi benedicano fratelli è la benedizione del signore scenda su tutti voi e su tutti coloro che diffonderanno questi messaggi queste video catechesi perché soltanto facendo conoscere le cose che più nessuno ti dice otterremo una fede salda e compatta piccolo resto ma questo non importa l'importante è avere assoluta fedeltà a cristo al vangelo e al suo magistero alla tradizione viva della chiesa che ci chiede di non svenderla massima salda